cosa sia il blues io credo soltanto i nativi di america possano dirlo io posso dire del mio rapporto con il blues sono una che da diversi anni si sta impegnando nello svincolare la vocalità e dunque il pensiero il nostro stesso esserci nel mondo da tecniche idee concetti che ci costringono socialmente e culturalmente ed è proprio questa stessa linea diretta che assolutamente mi porta blues il blues carne e sangue carne e sangue un'altra stessa linea un'altra stessa linea All the people up to you, it's why you... It's why I'm... Why? Why? I mean... Back to sun again...